Antonio Piricelli, comandante della Polizia Locale di Casavatore, ma anche consigliere comunale di Ischia. Questione sicurezza, a Forio una rapina mette tutti in allerta. Negli ultimi tempi purtroppo noi come nazione e come isola siamo soggetti a tutti questi avvenimenti che stanno accadendo e stanno portando sicuramente una forte tensione nella popolazione. Negli ultimi mesi ho rimarcato con forza il fatto che ci deve essere sicurezza, ma una sicurezza che deve partire a monte dal porto di Napoli per finire qui a Ischia. Negli ultimi periodi ho notato che le forze di polizia stanno facendo un grande lavoro e stanno approfondendo un enorme sforzo anche in termini di uomini per far sì che il fattore sicurezza sia una garanzia sulla nostra isola. Antonio, in effetti va detto anche che però i corpi della Polizia Locale hanno sempre meno unità, comuni in difficoltà quindi meno uomini per strada. Ma questo è un grande disagio per le amministrazioni ed è un forte handicap per la nostra isola. Io sto proponendo da tempo che sia un corpo coordinato, un corpo unico e soprattutto che le amministrazioni iniziano a mettere in campo delle risorse per avere più personale, anche giovane, perché se andiamo a vedere l'età media di ogni componente e comandi di polizia locale dell'isola di Ischia arriviamo tra i 57 e i 62 anni. Quindi io penso che ci debba essere un ricambio generazionale, si debbano iniziare a formare dei nuovi giovani che debbano iniziare a svolgere questo tipo di lavoro che è un lavoro essenziale e fondamentale alla pari delle altre forze di polizia in un territorio dove ogni anno abbiamo un incremento del turismo che quest'anno ci ha fatto sfiorare i 5 milioni di presenze annue.